Un'annata memorabile, così definiscono la sesta edizione di Azzurro Food, la cucina al centro del Mediterraneo, gli organizzatori a manifestazione conclusa ieri dopo quattro intense serate che hanno visto mischiarsi cucina, cultura, musica e cabaret. La manifestazione organizzata da Futuris, SRL, Record Eventi e Proloco Sciacca Terme con l'intervento della regione siciliana e il patrocino del comune di Sciacca ha confermato di essere tra gli appuntamenti di punta e le state saccenze con presenze che quest'anno affermano dall'organizzazione hanno raggiunto numeri significativi sia in termini di presenze sia nelle quantità di degustazioni offerte al pubblico. Una quattro giorni partita giovedì scorso che ha intrecciato spettacoli culminati con il concerto ieri sera di Carmen Consoli a Cooking Show e a un'area del gusto che alza di anno in anno la sticella della qualità rispetto a quanto messo su nelle precedenti edizioni. In piazza Scandagliato infatti grande spazio è la cucina siciliana con le numerose postazioni dello chef della prova del cuoco Natale Giunta che con il suo street food siciliano ha contentato anche i palati più fini. Sul palco due momenti di cooking show con la presenza dello chef Natale Giunta e dello chef siciliano Pasquale Vinci. I due maestri della cucina hanno realizzato dinanzi ad un pubblico attento due primi a base di pesce. Apprezzato dal pubblico poi anche Lucuntu di Lanciova, spettacolo svolto nello spazio antistante il circolo di cultura di Sciacca che ha visto protagonista Michelangelo Balistreri, fondatore del Museo dell'acciuga di Aspra. Con canti, conti e storie tradizionali Balistreri ha ammaliato il pubblico raccontando la storia dell'acciuga e dei costumi siciliani ad essa legati. Una edizione, la sesta e cui numeri il consenso del pubblico numerosissimo nelle quattro serate in piazza Scandaliato permettono già agli organizzatori di dirsi al lavoro per il prossimo anno alla settima edizione di Azzurro Food manifestazione ormai calata e attesa nel cartellone estivo di Sciacca.